Salah Abdeslam è stato incriminato per omicidi di matrice terrorista e partecipazione alle attività di un gruppo terroristico. Interrogato dagli inquirenti belgi, secondo il suo regale ha riconosciuto che si trovava a Parigi la sera degli attentati del 13 novembre e ha spiegato perché non si è fatto esplodere. L'avvocato Sven Marie non ha aggiunto altri particolari in merito. Abdeslam era stato scortato in tarda mattinata dall'ospedale Saint-Pierre alla sede della Polizia federale. Mentre le procure di Bruxelles e Parigi discutono le modalità dell'estradizione, l'avvocato di Abdeslam ha già detto che si opporrà al trasferimento in Francia. Molti sono i misteri su cui gli inquirenti di entrambi i paesi sperano di fare luce dopo la cattura del super ricercato per gli attentati di Parigi. Anche gli altri quattro sospetti fermati a Molenbeek nel blitz che ha permesso la cattura di Abdeslam sarebbero stati portati davanti a un giudice.